Dio Onnipotente ci ha concesso una clamorosa vittoria dopo una battaglia di quattro giorni sotto le mura di Lipsia su questo famoso Napoleone. Questa frase è stata scritta in una lettera dallo zar della Prussia, Alessandro. Sì, Napoleone è stato sconfitto e per ben due volte, la prima a Lipsia appunto nel 1813 e la seconda a Waterloo nel 1815. Tra una sconfitta e l'altra, gli stati più forti d'Europa, l'impero austriaco e l'impero russo, il regno di Prussia e la Gran Bretagna, si riunirono in un congresso a Vienna. Dal loro punto di vista c'erano un po' di cose da mettere a posto. Prima di tutto basta guerre. Le guerre costano e quelle contro Napoleone avevano messo a dura prova le finanze di parecchi paesi. Ma i sovrani avevano una preoccupazione ancora maggiore. Volevano fare in modo che non avvenissero più rivoluzioni, decapitazioni di re, fondazioni di repubbliche, come era avvenuto in Francia. Insomma, bisognava spazzare via queste idee libertarie, illuministe e tornare ai sani principi di una volta, di quel periodo precedente alla rivoluzione francese. Insomma, bisognava restaurare l'ordine e gli antichi regimi. Questo periodo, inaugurato nel 1815 col congresso di Vienna e conclusosi nel 1848, si chiamerà proprio Età della Restaurazione. Ma quali furono le linee guida del congresso? Essenzialmente tre. Il principio dell'equilibrio Il principio della legittimità Il principio dell'intervento Vediamo di spiegarli meglio. Il principio dell'equilibrio Equilibrio in questo caso significa che nessuno stato avrebbe dovuto diventare molto più forte degli altri, perché poteva essere pericoloso. E qual era stato quello più pericoloso di tutti negli ultimi tempi? La Francia. Allora si cominciò a creare una sorta di barriera attorno alla Francia che le impedisse un domani di tornare a, come dire, valicare i propri confini per conquistare i territori altrui. Per questo motivo furono creati quelli che vennero chiamati stati cuscinetto, ad esempio unendo l'Olanda e il Belgio, quindi facendolo diventare uno stato più grande e quindi più forte. Principio della legittimità Beh, questo è semplice. Significa che sui troni europei sarebbero dovuti tornare i legittimi sovrani e quindi cacciar via tutti i parenti che Napoleone aveva messo sul trono dei paesi conquistati. Ad esempio, in Italia, nel regno delle due Sicilie, sarebbero tornati i Borbone. Infine, il principio dell'intervento. I vincitori si impegnavano a soccorrersi a vicenda nel caso fosse scoppiata una rivolta. Venne costituita la Santa Alleanza formata dall'Impero Russo, l'Impero d'Austria e il Regno di Prussia. Allora, in pratica come funzionava? In modo molto semplice. Se in uno di questi tre stati fosse scoppiata una rivolta, gli altri due sarebbero intervenuti con le armi per difendere lo stato dai rivoltosi. All'inizio furono solo tre gli stati, ma negli anni successivi se ne aggregarono anche degli altri. Funzionarono questi tre principi? Apparentemente sì. In Europa effettivamente ci fu un periodo di pace. Ma nella realtà i problemi non erano stati risolti. Al contrario, si stavano aggravando sempre di più. Per prima cosa c'erano quei territori che non erano ancora riusciti ad unirsi e a diventare un unico stato e che furono ulteriormente spezzettati, come si vede molto bene in questa vignetta satirica. Vediamone qualcuno. Allora, ad esempio, l'Italia era divisa in parecchi regni. L'unica però dinastia italiana era quella del regno di Sardegna, quella dei Savoia. Tutti gli altri stati erano più o meno direttamente governati dall'Austria. La Germania era addirittura divisa in 39 staterelli, anche questi controllati o dall'Austria o dalla Prussia. Poi ti ricordi? Avevamo parlato del nuovo regno, il regno d'Olanda. Sì, ma il Belgio e l'Olanda erano nemici da parecchio tempo, perché il Belgio era cattolico, l'Olanda protestante. E poi c'era la Polonia, che venne divisa addirittura in tre parti e un pezzo fu dato alla Prussia, uno alla Russia e uno all'Austria. C'era un'altra questione. Una volta sistemati i confini, così a tavolino, come avrebbero dovuto vivere i popoli all'interno di questi nuovi stati? Secondo i sovrani avrebbero dovuto dimenticare tutto ciò che avevano imparato dalla Rivoluzione Francese. Quindi ritornare all'assolutismo. Infatti ricominciò la censura, ricominciarono i controlli della polizia. In pratica il congresso di Vienna fu percepito come uno scambio, un accordo tra i poteri di quelli che già erano i più potenti. L'unica decisione positiva che avrebbe potuto scaturire dal congresso di Vienna avrebbe dovuto essere l'abolizione della schiavitù. In realtà, attenzione bene, non venne abolita la schiavitù, venne abolita la tratta degli schiavi, cioè il loro commercio. Ma chi aveva degli schiavi se li poteva tenere legittimamente. Il diritto di possedere gli schiavi non era stato messo in discussione. In pratica ciò che venne proclamato al congresso di Vienna era più una condanna morale, come dire eh insomma ragazzi non va bene questa cosa, però in realtà non aveva nessuna conseguenza pratica. La strada per l'abolizione della schiavitù era ancora.